Sono manifestazioni alle quali vado sempre con piacere perché devo dire che riqualificano la qualità della vita. Tutto questo verde, i fiori, anzi io ne vorrei ancora di più, devo dire francamente. Ma per noi è importante come è l'aria, credo. Anche le persone che vengono dalle città qui si trovano bene. Credo che sia un patrimonio che dobbiamo curare e dobbiamo molto anche alla famiglia Todoli. Io conoscevo già suo padre Germano che ha sostenuto delle battaglie vere e proprie. Mi ricordo ancora quando ero un ragazzo che volevano fare un parcheggio dove c'è adesso l'anello del Pino. Non fu facile in quel momento in cui si pensava di costruire e di guadagnare o lasciare degli alberi. Quindi complimenti a Milano Marittima, ai suoi sindaci, ai suoi dirigenti che ha saputo mantenere questo patrimonio.